Ciao a tutti da me e da Audrey e bentornati sul canale. Questa è come vedete la ripresa unboxing perché mi è appena arrivato questo pacco da libraccio.it e ci accingiamo a spacchettarlo insieme. A Audrey piace tantissimo la scatola proprio e a me invece piacerà il contenuto. Quindi andiamo subito a vedere che cosa contiene. Allora, intanto vi dico che questo libro l'ho comprato usato e ha impiegato meno di una settimana per arrivare. Quindi diciamo 5 giorni circa, quindi sono abbastanza soddisfatta. Quando si comprano i libri usati c'è comunque la fase del reperimento che porta via quel paio di giorni in più. Allora, lo vado a girare. Se non ci interessano, non ci interessano. Ecco qua. 22.11.63 di Stephen King. E' un bellissimo libro, un bel librone di 800 pagine circa, 750. Io l'ho voluto comprare usato non per il prezzo, anche per quello, perché comunque questo l'ho pagato la metà rispetto a quello nuovo. Ma in tutte le librerie in cui ho girato, la copertina del libro nuovo aveva il volto di James Franco, che è il protagonista della serie TV che hanno tratto da questo libro. A me quella copertina non piace, l'edizione della Pickwick, perché trovo che sia molto molto più bella questa qui con gli articoli di giornale, relative ovviamente all'omicidio di Kennedy. Anche il retro, come vedete, è molto molto bello, bellissimo e sinceramente ho preferito aspettare un po' di più e avere questa copertina piuttosto che quella appunto con James Franco. Non perché James Franco non mi piaccia, però diciamo che quella copertina in particolare, secondo me, non rendeva giustizia quanto questa. L'argomento è appunto questa possibilità di tornare indietro nel tempo, amore, questa possibilità di tornare indietro nel tempo che ha il protagonista della storia, perché trova all'interno di un diner, di un'amburgeria, un passaggio che conduce appunto indietro nel tempo fino al 1958. Ora l'assassinio di Kennedy che lui vuole impedire è successo nel 1963 e lui dovrà rimanere fino a quella data nel passato. Io sono un amante di King, ho letto tantissime cose sue, veramente decine di libri. Poi per un periodo, insomma un lungo periodo di diversi anni, l'ho un po' lasciato, però adesso mi voglio riavvicinare a lui. Oltretutto questo non è un horror, che è appunto il genere che predomina in questo autore, ma è un fantapolitico, quindi un libro fantapolitico che affronta sia delle tematiche appunto politiche sia fantascientifiche in un connubio che secondo me sarà molto molto interessante. Quindi questo è il libro, non so quando lo leggerò, però quando poi sarà ve lo farò sapere. Sono emozionata di riavvicinarmi a questo scrittore perché appunto sarà con questo che io romperò il silenzio con King dopo, che posso dirvi, almeno 7-8 anni, nonostante io abbia cominciato a leggerlo fin da piccolissima. Quindi, insomma, sono anche abbastanza curiosa di vedere come sarà la mia reazione, le mie emozioni, riavvicinandomi a questo scrittore dopo un così lungo periodo, quando sicuramente ero diversa anche io come persona. Bene, con questo è tutto, spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Andate sul mio canale a vedere anche gli altri libri di cui ho fatto lo spacchettamento. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spolliciatelo se vi è piaciuto. Io e Audrey vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!